La tremenda guerra, dispiegata dalla Russia in Ucraina, ha una vittima poco notata. Proprio adesso cessa di esistere la poesia russofona di Ucraina. Gli autori, che nell'ultimo decennio l'hanno trasformata in un fenomeno unico, particolare, lo spazio del dialogo tra due tradizioni nazionali ricche ed eterogenee, uno dopo l'altro passano alla lingua ucraina, ammettendo che il dialogo non è riuscito. Ma se questo dialogo è destinato a svuotarsi, il nostro probabilmente sarà colui che lo lascerà per ultimo e chiuderà dietro di sé la porta. In parte ciò è dovuto al fatto che proprio l'autore preso in considerazione in questa sede è stato il più attivo in Ucraina a tradurre in russo i poeti contemporanei ucraini. E anche oggi sulla sua pagina Facebook i più recenti versi militari dei leader della poesia ucraina appaiono in lingua russa alcune ore dopo la pubblicazione degli originali. Ma non si tratta solo di questo.